Un viaggio nella memoria storica della provincia di Pesaro Urbino dal risorgimento fino alla nascita della Repubblica. Fino al 2 giugno a Palazzo Ducale di Pesaro si può visitare la mostra Portale delle Memorie, un'esposizione proposta per la seconda edizione dall'Istituto del Nastro Azzurro di Pesaro Urbino. Giunge quest'anno alla sua seconda edizione, la prima edizione è stata nel novembre del 2023, ha avuto un grosso successo, perciò abbiamo deciso di rieditare la mostra con contenuti nuovi. È una mostra che riguarda il periodo storico che va dal risorgimento fino ai giorni nostri degli accadimenti, delle persone, delle famiglie della provincia di Pesaro Urbino. La mostra non è fine a se stessa, ma promuove un progetto che abbiamo istituito dal Nastro Azzurro che si chiama Portale delle Memorie. Il progetto fa sì che in un sito internet, in alcune pagine Facebook e in un portale Instagram che abbiamo istituito possano essere raccolti e divulgati testimonianze, racconti, esperienze di persone della provincia di Pesaro Urbino che hanno avuto parenti che hanno combattuto o che sono stati testimoni di eventi durante gli eventi bellici che hanno coinvolto la nostra provincia. Lo scopo è raccogliere queste memorie che normalmente sono nei cassetti, nelle soffitte dove ci sono documenti, testimonianze o persone che hanno ricordi, raccoglierli e far sì che vengano conservati nel tempo e possano essere usufruibili per tutti. Parte di questi ricordi, parte di queste testimonianze le potrete trovare qui nella mostra che ha due percorsi, uno storico, cioè che riguarda le vicissitudini dal risorgimento alla Seconda Guerra Mondiale sempre però focalizzati sugli accadimenti della nostra provincia e della nostra regione e un percorso emozionale che riguarda una parte di tutti quei racconti, tutte quelle testimonianze, tutte quelle documentazioni che abbiamo raccolto fino adesso. C'è un tabellone che riguarda l'escursio storico che ha avuto la nostra bandiera e sono esposte alcune bandiere originali, importanti, come quella del 1860 che è stata esposta a Palazzo Vattielli quando sono entrati i piemontesi a Pesaro oppure la bandiera di guerra che nel 1958 è stata donata al 28esimo reggimento Pavia. La mostra è promossa dall'Istituto Nostra Azzurma ha avuto la grossa collaborazione di Asso Arma che tramite anche le altre associazioni combattentistiche d'arma ci hanno permesso di poter effettuare questo bel evento. Sponsor del progetto è la società Netco ADV di Pesaro. Quest'anno la mostra è stata preceduta dalla premiazione di un concorso avente nome omonimo, cioè Portale delle Memorie, che abbiamo istituito con le scuole a cui hanno partecipato scuole della provincia di Pesaro Rubino che ha visto vincitrice poi l'Istituto Cecchi. È iniziata l'inaugurazione il 24 maggio e avrà termine il 2 giugno. L'invito è quello di contattarci tramite il nostro portale ci sono tutti gli indirizzi a cui possiamo essere raggiunti per far sì che chi avesse testimonianze, voglia di raccontare documenti di parenti della propria famiglia o sia stato testimone di accadimenti particolari durante i vari conflitti che si sono succeduti, eviti che questi ricordi, questi documenti, vadano dispersi nel nulla e non vengano più conosciuti da nessuno.